esatto e devono reparation la pillage capital lasciamo perdere ok dobbiamo semplicemente aspettare e conquistare qui diamogli la brabant al flanders qua brabant che li vedevo già belli spinti poi ovviamente questa zona qui sarà una zona che dobbiamo andare a mangiarci allora la tregua contro di noi purtroppo la tregua la sila tregua con la francia finisce nel 1492 noi tre anni dopo quindi probabilmente o non faremo in tempo ad attaccarli o non faremo in tempo ad attaccarli vabbè vediamo come si evolve la situazione intanto li ho levati dall'equazione che comunque una cosa importante cosa buona e giusta ora potrei togliere già mantenimento di alcuni forti tanto qua sopra non mi vengono più ragazzi proprio easy peasy lemon squeezy non verranno mai più siamo già in guadagno di soldi sta cosa qua è proprio godò ego dopo lì veramente adesso ci spostiamo qui conquistiamo anche novare fa via così ce ne portiamo via perfetto vedo che gli spagnoli si sono seduti a como a prendere un tè al lago se per mano sempre bello ok borgogna coperta novara e andiamo giù qua a pavia scusatemi non l'avevo visto firenze si è espansa in tutta la in tutta la la costa come si dice ligure cazzo ha preso tutto ha preso anche inizia albenga e genova oltre che la corsica piense a otto ambizioni e io lo so giocata hanno fatto una rancone con firenze può essere molto divertente devo stare attenti saranno ci sono ci hanno dato una mano oppo racci ci hanno dato una mano adesso come adesso prendi mille uomini da qui portali giù a cacciare il milanese però adesso un domani saranno i nostri rivali assolutamente ci confineremo ora dato firenze chi chi odia la provenza milano tunisi saluzzo niente di che perfetto abbiamo preso anche pavia nasce il forte aspettiamo che cada milano e poi vediamo cosa fare the three leagues possono uscire a face bianca no ok vedo che ci stanno già andando gli spagnoli dico comunque a holland di andare qua ecco che si muovono bravi molto bene ragazzi è una partita con borgoglia che sinceramente non pensavo di riuscire a fare sono molto contento di questa cosa veramente molto contento poi vediamo se magari è passato un po di tempo riusciamo a conquistare un po più di territorio è senza scatenare la coalizione finale degli stati italiani e l'austria compresa però che noi confiniamo con l'austria queste due province del cazzo house che ricorda adesso ci ama ma che ovviamente non ci vede come valido alleato ci darebbe l'alleanza no perché siamo alleati ovviamente no di poco perché siamo alleati con i francesi giustamente li capisco siamo a velocità 4 perché non credo ci sia più troppo problema quanti uomini hanno 8000 dove sono dove sono se 8000 di milano a eccoli qua no qua ce ne sono mille a eccoli qui sì 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 vediamo la guerra tra spagnoli italiani tra spagnoli italiani sì madonna il morale di morale è veramente sotto i tacchi e nonostante ciò riescono a vincere sì hanno tolto l'assedio alle 3d x e si rifugiano in austria hanno continuato a draftare uomini ma beh è solo questione di tempo siamo tornati a perdere soldi e perdere un po di manpower ma qui ho tipo un botto di uomini madonna mia perché non mi fa vedere tutti gli uomini che sotto e niente dobbiamo comunque aspettare vabbè andiamo a conquistare noi allora perché si sono attaccate tutte le altre armate giustamente dai 35 invece dove vieni giù milano non ci credo ma si ferma 35 dai niente milano resiste con le unghie con i denti questa cosa mi fa molto fastidio un'altra consorte è morta veramente ne facciamo fuori peggio che i fazzoletti di carta tutta la miseria più espansi siamo più uomini abbiamo più penso riusciremo a gestire la cosa intanto siamo a milano ragazzi e milano ci chiede la pace ma ci penso io ma ci penso io milanese imbottito dei miei stivali che cazzo stanno andando vabbè eventualmente ora questi qua escono dalla guerra pace bianca o si solo bianca potrei fare la pace direttamente con milano ora ci danno quello che vogliamo scatta la coalizione di svizzera saluzzo e 3dx se prendo pavia o madonna ok allora saluzzo milano svizzera mantova venezia lucca 3dx bologna costanza austra no ok perfetto l'austra deve venire fuori da questa cosa pavia non la prendiamo oggi penso che anche como faccio entrare l'austra vero tu mori molesti i miei tre cani fanno casino si no l'austra entra anche con como niente come la prendiamo un'altra volta dobbiamo aspettare far abbassare nostro la nostra aggressive expansion ci diamo questo ci danno anche le war reparation 340 ducati io direi che si potrebbe anche chiudere qui senza aspettare questi caschino si perché stiamo spendendo un sacco di soldi bisogna aspettare quanto spendiamo al mese va bene da uno poco niente quanti soldi hanno questi giusto per capire 30 ducati ma vaffanculo scusatemi la parola ragazzi per 30 ducati non ci perdo ti faccio uscire dalla vera e basta allora no si ritornano iniziano a tornare qua noi li piazziamo a genève e facciamo la pace con il milanese quello che vogliamo con i soldi con lavoro reparation possiamo fare a nulla trattati con i 3d x si tanto tanto per no quello non ci interessa questo ci costa la coalizione di 3 sfigati che non ci interranno mai buona signori abbiamo abbiamo fatto abbiamo fatto abbiamo ammazzato anche il milanese ha 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 bello 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 possiamo fare possiamo fare un upgrade del government rank godo godo siamo la una non siamo più un ducato siamo un regno regno di borgogna ragazzi quanto godo how much it's the god in this moment it's too high my friend is too high riteniamo sulle tasse di guerra che se non siamo più in guerra buttiamo giù l'armamenti l'armamenti nancy e mettiamo da parte un po di soldini perché in questo momento la nostra corruzione sta crescendo e la dobbiamo abbattere perfetto abbiamo i soldi per fare un replay o loan e non abbiamo più debiti vedete si fa tutto molto bene non abbiamo consorti in questo momento questo lo possiamo raccogliare fuori dalle balle rimettere focus qui non si può ancora per un po quindi resteremo indietro un po con la diplomatic technology quello che potremmo fare è i core esatto stavo pensando di fare un manage dei core esattamente buona milano non è più una valida rivale e lo so e lo so e lo so dobbiamo metterlo un altro di rivale chi sarà venezia danimarca a questo punto con la provenza provenza allora rivochiamo l'embargo a loro economy solite cose che si fanno rivoca embargo ho visto che l'austriaco non ci ama più quindi sarà anche meglio ci stanno sul cazzo ovviamente gli austriaci però si vede com'è abbiamo finalmente abbiamo un diplomatico in più perché ora siamo in regno siamo più educato quello che dovevo fare questi ci amano questi ci vogliono bene questi ci relativamente amano nemmeno troppo richiamiamo il diplomatico da qui dove dovevo mandarlo ho completamente perso non mi ricordo più dove dovevo mandarlo qualcosa completamente dimenticato ah va bene vabbè l'austriaco lo stiamo placando e fin qui tutto a posto ok ora mettiamo insieme facciamo un insieme dell'esercito facciamo staccare la gente che non c'entra niente con noi vediamo che firenze in guerra con la provenza baden e siena la provenza ancora in guerra perché non possiamo entrarci mannaggia la pupazza perché sennò sarà stato molto divertente quanti uomini servono 146 uomini quindi ritiriamo sul mantenimento degli eserciti e vediamo se si è alzato il livello si a 27 mettiamoci dentro un altro cannone grazie l'attiviere è sempre importante ora una volta che gli estriaci non ci odiano più no generale brellino di gladbach è morto quindi dobbiamo mettere un nuovo generale a questo punto lo tiro su random lui devienno di viennano simon de coligni che non è un malaccio come generale non è malaccio come generale comunque una stella quindi rip come professionalismo come siamo messi è una cosa che mi interessava vedere ok siamo a top degli uomini bene allora ammazziamo il labi mantine ens e li mettiamo in drill ok perché nel frattempo la vidri la mesata la media di questo di questa armata è sceso peccato che non possiamo fare un po più di uomini ora ovviamente metterci la provenza contro è una bella cosa dopo c'è una tregua non potremmo attaccare nessuno e si è rialleata della francia o no la francia protegge garantisce la provenza ma che palle francesi maledetti è un'arma a doppio taglio lo sapevo io ne garantisce l'indipendenza porca miseria quindi nulla aveva fatto tutto sto gran casino per niente allora o li troviamo in guerra ma i francesi con chi cazzo possono andare in guerra a questo momento il nostro generale già migliora molto bene c'è da dire che mettere le mani su queste province sono molto ricche e ci hanno ci hanno permesso di restare davanti ancora quindi l'inghilterra ha ricciucciato il posto all'austria all'austriaco non abbiamo troppa distanza da come si chiama dalla moscovia che però a un'istituzione in meno siamo lì con la polonia la francia già un po più in là però insomma è un po più in là però borgogna si fa vedere ora mi girano i coglioni che all'austriaci gli austriaci entrerebbero in guerra io ho bisogno di prendere queste due province per fare la missione parca putt'angela addirittura lì di empire non avevo visto c'è una missione che possiamo diventare in quella cioè quella di diventare imperatore del sacro romano impero join the empire è un casino però si può fare molto figa è molto figa qua ci mancano queste due province del merda poi ovviamente i francesi inizieranno a essere un grosso problema io devo annettere sta gente ragazzi quando posso iniziare ad annetterla? nel 1494 siamo lì a questo punto ci dovremmo aprire tutto un discorso di annessioni e queste annessioni ci daranno grossi malus a livello diplomatico che dovremmo gestire purtroppo dovremmo gestire però vabbè non è un problema non è assolutamente affatto un problema come trade potremmo iniziare a dire la nostra sul trade di genova però abbiamo un 1% il 23 qua il 27 qui e il 2 qui qua abbiamo il 5 però infatti noi stiamo trasferendo da qui e trasferendo da qua eh il nodo di genova è un nodo un end note quindi è un nodo importante vediamo cosa riusciamo a fare continuiamo a perdere soldi per l'armi drilling vero? a questo punto stoppiamo l'armi drilling e mettiamo via del denaro che sono solo 1,98 piccato che penso sia la route out corruption che è un problema eh sì è una corruzione alta tra virgolette non abbiamo fatto l'embargo ai provenzali lo facciamo subito economy issue embargo ah perché abbiamo la tregua possiamo insultarli però yes bam un paio di power projection ci vengono a favore questo più 78 è tanta roba ci dà quasi un 10% in più di morale degli eserciti cazzo non bisogna mai perdere di vista ste cose rimarca fa guerra non ci interessa l'austria gli austriaci potrebbero essere impegnati da qualche parte però eh ok hanno messo in unione personale tutta l'ungheria potrebbe essere il momento di ridroppare l'alleanza francese di rimetterci insieme all'austria e rifare il giochino di prima parca puttana ma sono grossi questi regà i franzosi con chi sono alleati a parte noi portogallo e britannia laus è riuscita dalle grandi potenze ci è rimasta l'inghilterra qui qua ci sono un sacco di uomini quindi promising trader va bene ma tanto non ce ne faremo nulla ah i forti santo dio anche perché non guadagnava abbastanza morph ball tutti vediamo quanto tiro su grazie a tutti